buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video casa in io sono andrea e sono qua a regina pacis oggi per presentarvi questo splendido appartamento in una zona silenziosa in una via chiusa e molto verde ci troviamo a pochi passi dal centro siamo a circa 800 metri a piedi più o meno l'appartamento si trova al secondo piano rialzato senza ascensore e si in una palazzina che ha davvero pochissime spese condominali il punto forte proprio questo si parla di 300 350 euro all'anno di spese condominali l'appartamento è dotato di termo autonomo pompa di calore aria condizionata vetri doppi ed è un appartamento che è stato parzialmente ristrutturato qualche anno fa con la certificazione dell'impianto elettrico l'appartamento è dotato di una cantina al piano seminterrato e di due lavanderie condominali io vi attendo tutti il giorno dell'open day in cui potrete ammirare questo bell'appartamento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti